Teo, dove sei? Provo le nuove poltrone di azione salute, vieni anche tu. Ah, eccoti. Cavolo, sono davvero comode. Aspetta, non ti addormentare. Prima facciamole vedere anche a loro. Oltre ad essere belle e comode, hanno due motori che permettono di movimentare lo schienale e la pediera. E inoltre hanno anche un meccanismo che aiuta la persona ad alzarsi e a sedersi sulla poltrona. Hanno un sistema di ruote che permette di trasportare la poltrona all'interno della casa, anche quando la persona è seduta. Teo, adesso però dobbiamo andare perché oggi e per tutta la settimana abbiamo un sacco di consegni da fare a casa dei nostri clienti. E allora andiamo. Andiamo.